Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale espertone, benvenuti! Bene, oggi cosa voglio presentarvi? Voglio presentarvi queste cuffie della Tecnax, che sono molto particolari, sì perché per me questa è una novità, sono delle cuffie economiche, siamo sotto i 40 euro di prezzo e sono degli auricolari bluetooth che possiamo collegare al nostro cellulare, alla tv o quello che vogliamo, ma la particolarità di queste cuffie sono che hanno un display nel case, cioè dove io vado nel metodo, nella mia custodia, le cuffie, lì ho un display. Andiamo a vederle così vi faccio vedere come sono fatti. La confezione si presenta così, quindi in trasparenza, che mi fanno già vedere che c'è il display qui a disposizione, poi qua viene ripetuto appunto che c'è il display. Il display che adesso andiamo a vedere serve per varie funzioni. Sono delle cuffie bluetooth 5.3 sono delle cuffie anche con la riduzione automatica del rumore e lì ho varie impostazioni di come fare la riduzione del rumore. Durano circa quattro ore di batteria per una carica e quando le metto nel mio case posso ricaricarle fino a tre volte, quindi abbiamo dodici ore di autonomia circa, poi sono intorno alle dieci ore io ho visto. Dentro confezioni cosa troviamo? Troviamo le istruzioni per l'uso anche in lingua italiana, poi troviamo gli adattatori degli auricolari, dipende anche dall'orecchio che ho, se è un orecchio grande o piccolo e troviamo le nostre cuffie. Un cavo mini, scusate, un cavo usb-c per caricarle, perché qui come vedete il carica è usb-c. La particolarità di queste cuffie sono appunto questo display qua, che adesso andiamo a vedere. È un display touch, non so se vedete, aspetta che lo metto qua così. Per sbloccarlo faccio questo movimento qua e come vedete io ho varie funzioni. Adesso partiamo dall'inizio. Allora, possiamo cambiare, se stiamo ascoltando con il nostro cellulare la musica, possiamo cambiare la nostra canzone, mettere in pausa, possiamo alzare ed abbassare il volume, poi abbiamo la riduzione del rumore che come vedete ci sono tre livelli, cioè quattro con questo già impostato, l'equalizzatore normal, rock e poi abbiamo pop, che vedete qui, spero che non si vedano dei riflessi, eccoli qua. Poi abbiamo le impostazioni del timer, possiamo usarlo come timer, luminosità del display, possiamo abbassarlo e aumentarla, quanto vogliamo. Poi abbiamo la lingua, qui in questo caso abbiamo scelto la lingua italiano. Blocco del display, quindi con le immagini che avete visto all'inizio, adesso non so se la vedete qua, eccoci qua, possiamo cambiarla come ce ne sono quattro o cinque, se non sbaglio. Poi abbiamo trova le cuffie, possiamo addirittura sapere dove sono, ne facciamo suonare, qui abbiamo l'ora e la data, poi abbiamo, per mettere di interagire in alcune applicazioni mettendo il like, poi abbiamo il comando della fotocamera, quindi se noi abbiamo il nostro cellulare collegato alle cuffie, vogliamo farci un selfie, mettiamoli sul nostro treppiede, oppure lo mettiamo appoggiato a qualche parte, e questo qui mi comanda direttamente il cellulare per farmi la foto, e questa è una cosa simpatica. Adesso la batteria si è scaricata, torcia elettrica, apri e posso usarla come torcia il display. Bene, le cuffie sono così, tutte bianche, eccoci qua, con i comandini anche qua sul nostro tocco, questi si possono cambiare, qua abbiamo dei microfoni che vanno a capire quanto rumore c'è e mi vanno a fare un'onda contraposta in modo da non sentire più il rumore. Sono di qualità abbastanza buona per quanto riguarda la riduzione del rumore, per la qualità audio è buona, per il prezzo che viene più che buono, da quel punto di vista là. Poi niente, queste vanno inserite dentro l'orecchio, si mettono qua così, ed eccoci qua, così. Già solo mettendo sulla cuffia mi isola tanto il rumore, perché essendo il gommino mi isola molto molto buono. Le cuffie con display, questa è la sua particolarità, non da poco secondo me, perché è interessante avere anche qua il display, magari sto camminando, il cellulare ce l'ho in tasca, ho il case qua, posso cambiare, posso alzare il volume, posso usare il mio comando direttamente da qua, senza avere tutto il telefono in mano, oppure ho il telefono da qualche altra parte, io da qui comando tutto quanto. Ed è veramente interessante, vi lascio il link in descrizione, qui sotto, quindi se volete acquistarle, basta cliccate sul link e le acquistate. Che dire, sono delle cuffie che secondo me suonano bene, poi ogni volta torno a dire, purtroppo non riesco a farvi sentire le cuffie come si sente, perché dipende dall'altra parte con cosa state ascoltando, quindi è inutile fare delle prove di audio o di musica. Vi dico che per il prezzo che hanno si sente bene. Bene signori, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale, non costa nulla, basta premere col tastino lì dove c'è scritto iscriviti e attivate il tasto delle notifiche. Grazie a tutti e arrivederci.